Ciao a tutti amici e bentornati sul mio canale. In questo nuovo video vi farò vedere come mettere annunci gratis su subito.it che secondo me è uno dei siti migliori dopo ebay o forse diciamo al parerivello di ebay. Andiamo a vedere come fare. Allora innanzitutto andiamo appunto su subito.it dovrete prima di tutto iscrivervi sul sito prima di poter pubblicare i vostri annunci. Io già l'ho fatto, già sono entrato con il mio account e adesso andiamo a pubblicare un annuncio. Mettiamo qui inserisce annuncio. Naturalmente bisogna prima fare le foto del prodotto che vogliamo vendere perché è facoltativo mettere le immagini come potete vedere però naturalmente il prodotto con delle foto ben fatte vende meglio rispetto ad uno senza foto. Quindi mettiamo qui in vendita e non cercasi. In vendita io in questo caso devo vendere un navigatore satellitare. Quindi possiamo mettere accessori per auto. Potrei anche mettere elettronica. Elettronica sì. Vabbè. Però mettiamo accessori per auto. Carichiamo l'immagine. Vi consiglio di mettere più di una foto. Così il cliente è più soddisfatto diciamo. Il possibile acquirente. 4 foto penso che bastino. Ok. Dopo aver inserito le foto che naturalmente il sito caricherà dopo alla fine di tutto mettiamo il titolo che annuncio del prodotto che vogliamo vendere. Il più sintetico possibile. Navigatore satellitare. Sansui GPS 43. Definisci in poche parole quello che stai offrendo. Non aggiungere vendo o parole simili. Adesso mettiamo il testo dell'annuncio. Il testo dell'annuncio deve essere composto naturalmente dalle caratteristiche essenziali e specifiche del prodotto che vogliamo vendere. Questo tipo di sito vuole che le marche dei prodotti che vogliamo vendere devono essere scritte in maniera originale. Quindi abbiamo scritto originale. Esempio originale Sansui. O originale Sansung eccetera. E mettiamo il testo dell'annuncio. Tutte le caratteristiche dell'annuncio. Ok. Il prezzo che è facoltativo. Però se ce lo mettiamo forse è meglio. Il comune dove vogliamo effettuare lo scambio eventualmente oppure dove si trova il prodotto. Se vogliamo possiamo anche mettere la mappa. Io però la sconsiglio non la metto quasi mai. Ok. Poi se siamo privati o aziende mettiamo privato. Il nome. Le mail. E il numero telefonico. Ok. Adesso vuoi sapere il mio numero telefonico. Hmm. Non va bene questa cosa. Vabbè comunque mettiamo nascondi il numero telefonico se non vogliamo farlo vedere nell'annuncio. Oppure mettiamo mostra. Dopodiché dobbiamo spuntare la V su accetto i termini d'uso del servizio. E acconsente al trattamento dei dati personali per le finalità adesso connesse. Vabbè. Dovete farlo per forza pure se non l'accettate. Perché se no il sito non vi fa andare avanti. Fatto ciò. Accettato tutto. Come potete vedere. Il sito carica le vostre foto. È a quanto veloce. Sì. Perfetto. Questo qui è il riepilogo del vostro annuncio. Vedete se va tutto bene. Potete anche incrementare il vostro annuncio. Però naturalmente è a pagamento. Io quindi ve lo sconsiglio. Visto che il sito è totalmente gratuito. Perché non sfruttare questa occasione. Quindi mettiamo continua. E come potete vedere il sito è inserito. Sarà ora di visto secondo le regole di subito.it. Quindi. Lo staff vedrà se il sito è legale. Se va tutto bene. Fatto ciò. Il sito pubblicherà il nostro annuncio. E ce lo confermerà tramite l'email che abbiamo lasciato. Quindi arriverà un'email dal sito proprio subito.it. Che ci confermerà che il nostro annuncio è stato inserito. Bene ragazzi. Questo è tutto. Spero che il video vi sia interessato. Mi raccomando. Continuate ancora a commentare tutti i miei video. Ad iscrivervi soprattutto. Perché da come potete notare siamo un bel po' di iscritti sul mio canale. Siamo 823 ad oggi. Il 15 dicembre 2014. Ok ragazzi. Per oggi è tutto. Un bacio. Saluti da Dexter.